Cari appassionati fungaioli, la nostra avventura questa volta parte da San Pantaleo, una delle più piccole frazioni del comune di Vinci e vedete la chiesa e prenderemo un sentiero che ci porterà verso uno dei tanti crinali del Montalbano che vedete laggiù quella montagna larga 30 km, io ho contato una trentina di modi per scavalcarlo sia dal lato ovviamente, questo qui è il lato empolese che dal lato fiorentino si può scavalcare in 30 modi diversi, pensate, qua si vede già qualche forma fungina ma per trovare funghi che noi ci interessano dovremmo salire parecchio anche se io già do un'occhiatina in questa zona perché comunque è sempre bene visto che questo è un tratto in cui passo spesso, vedere un po' le piante che ci sono intanto e poi capire un attimino se c'è qualcosina di interessante qui più che altro sono betulle e carpini, quindi certamente piante non di scarso interesse però anche qui ci sono dato dei pruni, prunus, cioè sarebbero delle rosacee e anche qui un'occhiatina si può dare perché magari aprile potrebbe darci delle soddisfazioni io vi ricordo non ho mai trovato neanche il prugnolo come non ho mai trovato il dormiente detto Marzuolo e li troverò sicuramente nel 2024, questo è il proposito per quest'anno nuovo che è iniziato e noi intanto saliamo, iniziamo la lunga salita, guardate dobbiamo arrivare lassù sul crinale praticamente è dura eh, comunque è veramente bellissimo, godiamoci il viaggio perché sono zone splendide da attraversare chi invece non vuole vedere questo splendido versante, non vuole godersi i panorami straordinari di intorno a Vinci può schippare al minuto 9 dove vedrà il fungo che ci interessa ma questo scoprirete che vi toglierà tutta la bellezza di un'avventura fungaiola e anche il senso che è il passare da un paesaggio all'altro con la bici vedete intanto il canneto, il canneto credo non dia funghi che io sappia ma ditemelo ovviamente nei commenti e intanto il Montabano vedete come si avvicina e siamo sulla zona che si chiama Piastrino il Piastrino e questa è un'altra piccolissima frazione che poi ci porta in zone che sono buonissime dal punto di vista degli asparagi ovviamente è presso per gli asparagi ma intanto un'occhiatina si dà ci sono questi piccoli boschetti, vedete, passando che sono pieni di asparagi e asparagine ora non muovo una perché così non si vede nemmeno la pianta ecco, se lo muovo la vedete, l'asparagina che è ancora viva alcune di queste asparagine come sapete fanno delle palline verdi che ora già sono diventate nere e fanno cadere i semi degli asparagi se volete seminare gli asparagi potete prendere queste palline quando sono mature e dovrebbero darvi i semi per far nascere nuove asparagine selvatiche e che non è per niente male, no? intanto vedete Frana insomma qui è pieno di Frana c'è stato di tutto nell'evento del 9 novembre è stato incredibile sul Montalbano purtroppo e io vedete che il mio versante non è un versante reale, è inventato da me grazie alla mia esperienza e conoscenza del luogo e passo da una strada all'altra tramite viottole incredibile rete di viottole che c'è guardate, rientro, poi riesco e poi rientro sempre dritto ovviamente io faccio una strada dritta dove non esiste creando tutte viottoline e praticamente lo ritrovo nella zona di Fornello questo versante ovviamente non esiste per chi non ha una bici non può farlo, in macchina sarebbe molto complicato però invece per chi ha la bici e può fare fungociclismo si tratta di un modo per attraversare varie zone varie altitudini vedere come si muove il bosco perché sono tratti di bosco a varie altitudini e quello che ho visto è che effettivamente ovviamente ora, probabilmente con l'abbassamento delle temperature le zone migliori per i funghi non sono tanto quelle basse vi avevo dato un range di 100-300 metri già tagliando la parte zero ma ora, mentre qua vedete la vallata che divide il tratto di Sant'Amato da quello di Leporaia che saliremo e noi saliremo tutto vedendo la chiesa di Sant'Amato essere il nostro punto di riferimento e vi dicevo che probabilmente ora il tratto di funghi è salito da 200-400 metri di altitudine quindi da 100-300 a 200-400 il che comunque ci rende Montalbano ancora montagna utilissima per vedere qualcosa ed ecco finalmente il momento di girare dalla strada di San Baronto a quella di Leporaia quindi come spesso succede mi prendo un pezzo di San Baronto la strada asfaltata che fanno tutti i ciclamatori con la bici da corsa anche 30-40-100 volte l'anno e io invece faccio il muro il devastante muro di Leporaia avete visto le pendenze e già vedo la chiesa di Sant'Amato ma che è divisa da me da una profondissima vallata vedete? e qua c'è tutto bosco e io devo vedere quel bosco lì un pochettino più riparato che è eccezionale e vi farò vedere per Benino perché è dove poi troverò il fungo che oggi vi mostrerò ma certamente lì è buono anche per i cuorcini quando sarà la stagione dei cuorcini vedete? li avete non proprio tenute bene per questo vi presento il fatto che a fine gennaio vedremo a fine di questo mese quindi vedremo il corso di potatura con il maestro che si sta preparando in realtà lui è già attivo nella sua potatura sta facendo gli olivi che meritano solo un ritocchino una spolonatura poco più e poi andrà avanti potando nelle zone meno a rischio ghiaccio perché ad esempio a questa vuota io vi sconsiglio di potare perché qui nevita poi a un certo punto e se tira la tramontana e c'è la neve gli olivi vengono bruciati se potati roppo potentemente guardate quanto bosco c'è tutto questo bosco qua io l'altro lo devo ancora esplorare bene questa parte più bassa sicuramente non è proprio di grandissimo interesse però c'è questo tratto qua di le porai che me lo mostra e io poi entrerò nel bosco qui inizia molto più in alto il bosco vedete? c'è un tratto di terreni casine abbandonate vi farò vedere particolarissimo per chi vuole fare un giro mountain bike a queste parti bikers se lo apprezzano molto anche se la strada non è perfetta e uno dei poteri del fungociclismo è proprio poter vedere tutti i versanti da montagna e esplorare anche facendo semplicemente le strade un sacco di fungai perché vi ricordo che grandissima parte dei miei fungai sono comunque entro 50 metri dalla strada anche 10 anche 10 metri diciamo vedete guardate tratti di bosco alternate a tratti brulli e estremamente panoramici quindi apprezzate e vi riempite il cuore qui se fosse stata una giornata di sole ci saremmo veramente goduti il paesaggio tratti brulli che prima erano campi coltivati ora sono un po' così probabilmente qui comunque qua cosina gli fanno perché altrimenti non rimarrebbero senza sterpaglie e case invece abbandonate con piante che crescono sopra tetti caduti quindi qui siamo in una zona dove la natura sta riprendendo il posto delle attività umane perché sapete che nei paesini anche insomma nelle case isolate in montagna si perdono piano piano per tornare al bosco come sta succedendo tutti vanno in città e questo è il risultato io sinceramente se potessi comprare una casettina di queste me la ristrutterei ci andrei a vivere certo un lavorone è ristrutturare una casa così prendeva tirata giù e ritirata su guardate il panorama nonostante il tempo che stia minacciando pioggia guardate intanto esistono già i funghi a questa quota si salirà ancora siamo intorno a 250 metri e mentre vedete ancora case ruderi ma ce ne sono 4 o 5 e anche gruppi un pochettino sparsi io vado a salire il paesaggio può essere anche un pochettino lugubre in questo momento vedete io guardo anche dentro si vedono solai caduti e tra poco entriamo nel bosco è il fatto di castagneti querce lecci non ce ne sono qui quindi non potrò avere ragione di trovare né leccini e nemmeno i trovatissimi devo dire in questo periodo lardaioli che sono i funghi probabilmente più diffusi in questo periodo insieme diciamo quelli comestibili sono i più diffusi i lardaioli mentre c'è la clitocibenevurais che fa ora effettivamente a prati ma non è come vi dicevo comestibile è considerata ora tossica vedete case estremamente luminose e aperte verso l'esterno mentre io entro dentro il bosco mi chiudo dentro il bosco al luogo riparato di questo bosco che certamente è coperto da varie correnti ventose specie la tramontana e quindi ha conservato anche quella freschezza che non manca visto che è piovuto continuamente ma quando verrà la tramontana questo è uno dei posti più riparati e va tenuto presente io trovo qui la strada che leggermente spiana finalmente ci sono castagni vedete scope ci sono anche dei pini e di là poi avanti ne troveremo la ventina fungaiola sarà tutta in questa quota più o meno e andremo a finire alla chiesa sant'amato quella che abbiamo visto laggiù lontano e dal nulla appaiono i funghi vedete già c'è qualcosa questo qui vorrebbe essere già una geotropa mal conservata e mal ridotta perché l'onusata aveva odore maggiore di queste che sono invece delle geotrope in perfetto stato devo dire sembrano un po' sbiadite ora un po' avete la telecamera quando però metto a fuoco si vede sono del colore leggermente giallino che le distingue dalle nebularis ovviamente annuso l'odore è un po' più lieve della nebularis quindi in questo momento sto facendo fatica a sentire l'odore perché è leggero a un certo punto mi arriva al naso non vorrei avere avuto qualcosa che mi ha ridotto la mia sensibilità nasale però l'altro le sentivo meglio quindi questo qui effettivamente è un odore più leggero anche da giovane è un odore più leggero ma probabilmente è anche il momento in cui ci troviamo comunque consideriamo che siamo ai primi di gennaio e questi sono funghi effettivamente che dovrebbero essere funghi di novembre ecco quindi è già un miracolo trovarli però vedete io li prendo per il maestro che è un ghiottissimo mangiatore di geotropa la geotropa è un fungo interessante saporito buono da non confondere con le nebularis ora questi qua non sono sicuro siano nebularis perché non mi sono accucciato a sentirle dell'odore diciamo che quando uno si ha dubbio che sia le nebularis uno lo annusa e sente l'odore fortissimo che hanno anche quello quello stura il naso proprio è molto più forte della geotropa però va detto che la nebularis contiene una nebularina che è tossica una volta le mangiavano anch'io ho dovuto assaggiare da piccolo ma già mi ero reso conto c'era qualcosa che non andava e se ne troveranno se ne trovano qua tantissime su Montalbano ma anche in tantissime altre zone di nebularis che però ormai non sono più comestibili sono tossiche e vanno lasciate lì si è scoperto questa cosa ve lo dico sempre perché alcuni della verità nei commenti spesso mi dicono io me la mangio lo stesso non mi interessa l'ho sempre mangiata io non ho problemi io sono liberale fate come volete io vi dico soltanto che è tossica il fegato è vostro ognuno dispone del proprio fegato come desidera e intanto noi saliamo leggermente ma rimaniamo sempre su questa quota ed è una quota molto interessante poi farò vedere il bivio e praticamente da questo bivio noi potremo arrivare sul crinale perché vi ho detto questo è un sentiero che porta al crinale via tracciata non è una via inventata da me esiste tracciata certamente sono arrivato per vie inventate da me unendo strade che già esistono quindi sempre sentieri tracciati ma unendo lì in modo da fare una strada dritto per dritto che diventa un vero versante del Montalbano e arriveremo quasi in cima io devo dire del lato pratese del Montalbano conosco un po' meno diciamo però anche conosco tante salite tanti versanti ma un po' meno di quelli che conosco di qua e ecco qua il barco reale certo qui non è in buone condizioni ricordatevi il barco reale è il limite della riserva di caccia del Granducato di Toscana del Granducato di Toscana quindi siamo intorno a epoche remote ma non remotissime in cui era vietato salire passare oltre questa zona ora invece è crollato il muro e ricordatevi sempre queste cose succedono cioè i divieti i limiti che vengono imposti spesso poi crollano crollano miseramente insieme alla arroganza di chi li ha creati e intanto noi arriviamo al bivio da qua si va allo 00 quindi sul chilano del Montalbano io questa volta invece andrò verso la chiesa Santamato perché voglio vedere alcune pinete mi hanno detto che ci sono qui sul Montalbano anche sporadicissimi Lattarius delicious che è un fungo molto ricercato io ho trovato che stanno solo sul Monteserra e mi sarebbe mi farebbe piacere inaugurare l'anno con dei Lattarius delicious funghi eccezionali straordinari che effettivamente sono anche molto saporiti devo dire è un fungo che lo mettete sulla gratella sa di carne ed è buonissimo saporitissimo un filo d'olio ed è eccezionale pini però che non se la passano benissimo sul Montalbano devo dire io qui non c'ho le fungaie del Lattarius delicious perché è una zona che devo esplorare meglio una delle tantissime zone che devo esplorare meglio e tante altre invece le conosco il Montalbano che è il mio giardino di casa devo dire in alcune zone lo devo ancora benissimo esplorare mi manca qualcosa da conoscere quindi capitasse di vedere un Lattarius delicious mi segno la fungaia ad esempio queste sono zone anche da valutare per future raccolte di porcini perché anche qui mancano fungaia di porcini tendo ad andare sempre ai soliti posti perché ne trovo tantissimi vedete questo fungo qua non so cosa sia è il ricordo di un fungo chissà cos'era è difficile anche da valutare che sia stato un Lattarius delicious perché devo dire una cosa quella forma del gambo mi faceva pensare ma non ho approfondito poteva anche essere in stato di decomposizione mentre qua questo qua sembra un Lattarius piperatus ma vorrei azzardare anche piccolino solo sono più grossi e forse forse davvero quello lì che vedete laggiù poteva essere un Lattarius delicious anche se quando marciscono assumono un colore diverso un colore scuro verdognolo verde scuro e questo quindi non mi convince più di tanto ma quel disegno lì invece è tipico dei Lattari quindi potrebbe essere un Lattario andato a male non però delicious ovviamente a voi chiedo questa difficilissima non determinazione questa decisissima valutazione per dimmi un po' perché magari ho trovato qualcosina che potrebbe tornare a mi utile in futuro quando escono effettivamente questo tipo di funghi effettivamente ora non dovrebbero uscire più si trovano si avete visto le geotrope anche giovani ma è difficile trovare funghi come Lattarius che escono anche ad agosto insomma arrivare ora è difficile si può provare qualche leccino sporadico a gennaio andrò su Montesera perché lì me li immagino di trovare e farò anche una ventina fungaglia vicino al mare sempre per leccini e altri funghi tipo le trombette di morto che ho trovato avete visto sulla zona delle colline pisane vedete le felci secche ricordatevi che i felci seguono un po' il ciclo dei porcini quando spuntano quando sono cresciute si iniziano a vedere i porcini e poi si finiscono di vedere quando i felci seccano quindi non c'è da sperare di trovare i porcini sono seccate da tempo ma poi rispuntano e quindi torneranno i porcini queste zone sono zone a altissima vocazione porcina ma non ne conosco le funglie dei porcini quindi dovrò valutare quindi infatti già mi sono fatto un'idea ho visto dei punti dove scendeva la gente perché si vede sono cercati evidentemente sono funglie per l'attarius deliciosus che però ora hanno finito di uscire e di esporare quindi ci dove tornare prima ci dove andare prima e sono passato ora troppo tardi ma monitorare l'intero Montalbano è già difficile vado anche in altri luoghi vado molto lontano anche mi viene voglia di esplorare altre zone e magari non conosco il mio Montalbano il mio giardino di casa ma va detto che tanta gente va a giro all'estero e non conosce il paesino di Erohasa quindi sono quasi giustificato vedete questo è un campo coltivato una volta ci sono dei pini grandi quindi probabilmente un secolo fa era un campo coltivato forse una vigna non credo un oliveta perché non ci sono tracce di olivi anche se gli olivi spariscono dopo che vengono abbandonati non sono piante in grado di esistere nella boscaglia e qui probabilmente c'erano delle vignette come ci sono a Sant'Amato perché è una zona molto alta del Monte Albano ma riparata che consente dell'agricoltura consentiva almeno l'agricoltura finché non è stata abbandonata in gran parte però è rimasto qualche olivo farò vedere vicino alla chiesa ulivi altissimi per la quota insomma che sono 370 metri e guardate pini da tutte le parti boschi con scope e molto interessanti sono queste zone poi c'è un torrente e sono zone riparatissime e estremamente interessanti dal punto di vista fungaiolo ricordano anche quelle zone del Romito anche se nulla a che vedere questa zona con il Romito qui vedete ha portato via tutto come al solito l'evento del 9 novembre e però riesco a passare e arrivare alla chiesa di Sant'Amato però ancora qui c'è da vedere di nuovo una pineta vedete tra poco mentre a giro le frane che sono state sistemate in parte i sentieri sono stati resi di nuovo percorribili i alberi caduti sono stati segati e quindi il Monte Albano rimane con la sua incredibile rete di sentieri uno dei luoghi più piacevoli da visitare che ci andate a spasso con il cane che ci andate in bici mountain bike ovviamente proprio il regno dei bikers e alcuni vanno anche alla moto a cross nelle zone dove non è vietato diciamo la zona vincese è consentita una zona quadrata comune di quadrata è vietato più o meno è questa la regola Carmignano non mi ricordo per le moto a cross quad eccetera sono strade a misura di bici sono strade da avventure fungaiole è chiarissimo che qui ho un vantaggio enorme rispetto agli altri fungaioli che devono scegliere una zona prendere la macchina e spostarsi io qui prendo e vado mi faccio tutto il crinale se vedo che non va bene vado anche sul crinale pratese quadratese diciamo perché quadrata è il comune di Pistoia è la provincia di Pistoia quindi è una possibilità immensa di trovare nuove zone ovviamente le giornate qui sono cortine il tempo è incerto piove o becco la pioggia anche oggi però posso godermi un montalbano che è vario è ricco di zone diverse tipo di piante diverse quindi posso andare a cercare il leccio posso andare a cercare la quercia oppure il pino e bene o male li trovo tutti questo è estremamente vantaggioso anche tantissimi castagni sul montalbano castagno che in genere dà ottimi funghi porcini ma ovviamente non c'è da pretendere ora a trovare un porcino sul montalbano a gennaio poi i miracoli esistono io un'occhiata la do sempre vedete continuo a entrare e uscire entrare e uscire dal bosco al sentiero perché le funghi mi interessano di più trovare o scoprire oppure immaginare per il futuro perché comunque è un lavoro di ricerca continua sono quelle lungo il sentiero perché in questa maniera io posso passare da funghi all'altra in maniera estremamente rapida e vedermene 30 funghi diverse semplicemente passando con la bici e tra poco vedrete la via che porta alle croce di Sant'Amato da lì si scollina si va giù fino a Quarrata e là c'ho delle fungai effettivamente e quindi potrei unire volendo in un giro delle fungai che partono addirittura da San Pantaleo come avete visto e arrivare dall'altra parte fino a Quarrata mentre qui annuso questo che dovrebbe essere un Clitocibe nevularis ma annuso il pezzettino che si era staccato e sento meno gli odori ho come l'impressione di avere qualcosa che mi ha un po' di sinusite e mi ha ridotto la mia capacità di percepire gli odori e questo lo spiega perché non sentivo l'odore della geotropa in precedenza vedete il bosco comunque contiene dei funghi ci sono funghi c'è vita ma a questa quota qua più in alto un po' meno più in basso meno molto meno e quindi dovrò tenere presente questa cosa anche quando andrò su Monteserra o in altre zone se vado vicino al mare il microgrima è diverso ovviamente lì più in basso si trovano anche a quota zero delle presenze fungine interessanti mentre vedete ritrovo il sentiero di nuovo e continuando a saltabeccare per fortuna ritrovo anche la bici che ho lasciato qui sul sentiero chiunque me la poteva prendere ma ovviamente sanno che sono quelli che fanno le avventure fungaiole e se vogliono vedere l'avventure fungaiole devono lasciarla lì altrimenti io non me la posso ricomprare guardate le croci di Sant'Amato luogo bellissimo panoramicissimo io però scendo stavolta perché è tardi vedete il tramonto si avvicina scendo giù verso la chiesa di Sant'Amato luogo bellissimo mi raccomando frenate quando arrivate qua giù perché altrimenti andate dritto verso la sagra che si tiene d'estate non l'ho pubblicizzato però è un momento interessante del paese ed è l'unica cosa che le persone normali conoscono di Sant'Amato peccato perché è un paese bellissimo panoramicissimo una chiesa tra le più semplici e belle con campane vere che vi faccio vedere che suonano vedete campane vere sentite il suono che si spande per le campagne e quindi la zona di Sant'Amato è una zona poetica straordinaria mi piacerebbe anche uno di quei posti come Faltoniano dove mi piacerebbe tornarci a vivere ma io vivo più in basso per motivi familiari tuttavia è uno dei luoghi del cuore bellissimo da vivere e magari una casettina qui me la comprere volentieri anche se sono povero non me la posso permettere e la mia se la vendo non varrebbe nemmeno metà dei soldi che potrebbe valere una casetta qua ma vedete iniziano le olivete guardate olivete altissima quota panorama ancora pioggia minacciata dal Montalbano che è il cappello e quando Montalbano ha il cappello il contadino prende l'ombrello iscriviti al canale youtube chiocciola l'eremita è gratis e attiva la campanellina per non perdere nessun video